Parco giochi semini e vicende legate allo stato di degrado e trascuratezza di questo spazio urbano. A seguito delle segnalazioni effettuate dalle mamme del quartiere e le conseguenti reazioni registratesi da parte dell'Associazione Politico-Culturale Amo Caltagirone, giungono le precisazioni del Sindaco Fabio Roccuso, il cui primo cittadino ha tenuto a precisare gli aspetti di carattere tecnico-burocratico correlati a un patto di collaborazione siglato a suo tempo con l'Associazione Giovanile Parco Logico. In relazione alla polemica che è nata sulla sistemazione del Parco dei Semini vorrei tentare di fare chiarezza perché il Parco dei Semini è uno dei tanti parchi che noi abbiamo affidato a giovani singoli o associati o associazioni culturali o più complessivamente a gruppi di quartiere che hanno sottoscritto con il Comune un patto di collaborazione. Che cos'è un patto di collaborazione? È uno strumento attraverso il quale un gruppo di cittadini e il Comune si mettono d'accordo e il Comune cede la gestione e la manutenzione di quell'area all'Associazione o comunque ai soggetti richiedenti. Gli esponenti dell'Associazione Parco Logico dal canto loro avevano ribadito che il suddetto patto di cooperazione tra associazioni e amministrazione comunale sarebbe scaduto a novembre 2023. Ciò nonostante hanno provveduto con senso di responsabilità a liberare dalla morsa dei rifiuti e sterpagli e lo spazio ludico. Parte dei rifiuti sono rimasti accatastati e devono essere ancora rimossi. Nel caso in specie dei Semini io ho affidato la cura di quel parco a un gruppo di ragazzi che hanno composto un'associazione che sono tenuti a prendersene cura. Tenuti non è una facoltà, tant'è che tutte le volte in cui noi strutturiamo patti di collaborazione o di cooperazione non inviamo più i nostri giardinieri a fare la manutenzione perché sono i ragazzi stessi o le associazioni che debbono provvedere. Si tratta di un processo di cittadinanza attiva all'interno del quale gruppi di persone si fanno carico di spazi comuni della città e provvedono essi stessi a fare le manutenzioni. Il sindaco a nome dell'amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentimento di ringraziamento per il lavoro svolto da questi giovani ragazzi che nello sbracciarsi le proverbiali mani che hanno tirato quasi a lucido questo piccolo parco urbano che purtroppo rimane ancora senza giochi ludici. I contratti che stipuliamo di volta in volta stabiliscono chi fa chi chi fa cosa, se noi dobbiamo fornire o no del materiale per la pulizia e la scerbatura e le modalità e le tempistiche con le quali i richiedenti il patto di collaborazione sono tenuti ad intervenire sul bene. Quindi una polemica inutile che non sarebbe mai nata se nei tempi dovuti i ragazzi avessero effettuato l'attività di pulizia. Ragazzi che ringrazio per l'impegno che profondano in quell'area insieme a tutti coloro che insieme a noi si cimentano a prendersi cura di questa città perché ricordo a tutti questa è una città con 37.000 abitanti, con spazi abitativi per 70.000 e con una estensione territoriale enorme. Il Comune è in grandi difficoltà finanziarie e quindi ha bisogno della cura da parte dei cittadini e della capacità e dell'impegno di giovani, donne, uomini e associazioni di lavorare con noi per tenere più pulita la nostra città.